Il Comitato Intercomunale sulla velocizzazione della linea Pescara-Roma continua la battaglia contro il tracciato previsto per la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. Ieri, in occasione della tappa aquilana del Ministro dei Trasporti, una delegazione del Comfer ha consegnato un appello a Matteo Salvini. Abbiamo chiesto a gran forza la revisione del tracciato e al Ministro abbiamo consegnato le nostre ragioni, dicono dal Comitato. Ragioni che, in definitiva, si possono riassumere in due parole, o meglio, due numeri. 95 come i milioni di euro di espropri necessari per dare corso al progetto e 13 come i chilometri di tracciato realizzabile con i suddetti espropri. Nel documento consegnato a Salvini viene citata anche la variante all'attuale progetto, quella proposta dalla rete ferroviaria italiana, una soluzione alternativa. Secondo il Comfer. La preghiamo, prima di firmare l'accordo al CIPES, dicono ancora dal Comitato, di farsi dire da Marsilio e da RFI che fine ha fatto questa alternativa. Noi non l'abbiamo compreso, non abbiamo capito quando e dove è stata portata l'approvazione del via e quali sono state le azioni del Governo della Regione Abruzzo per venirci incontro e riportare a galla questa risolutiva variante. Non si fermi alla prima generica risposta su problemi esondativi, chiede ancora il Comitato al Ministro Salvini, perché la variante plus l'avevano proposta loro e non possiamo credere che l'abbiano fatto solo per concludere in clima pacato il dibattito pubblico. Il nostro non è un movimento no-tav, noi non ne facciamo un discorso di principio, chiediamo solo il buonsenso. Successivamente la delegazione ha reso noto che il Ministro Salvini si è impegnato a leggere la lettera e a guardare le fotografie.